Allianz Allianz è la nuova arrivata in casa Nunez, è nel nostro assortimento da due anni e ci piace pensare che sia una carota di nuova generazione infatti Allianz sposa benissimo il concetto di agricoltura sostenibile se ne sente parlare tanto in questo periodo agricoltura sostenibile vuol dire sostenibile in termini ambientali ma vuol dire anche sostenibile in termini di costi di produzione Allianz ha proprio queste tre caratteristiche che la collocano nell'idea di coltivazione del futuro è caratterizzata da un'alta germinabilità che si traduce facilmente in una densità di semina più bassa quindi un investimento inferiore da parte dell'agricoltore è caratterizzata da un ampio pacchetto di resistenze lo vediamo in questa slide, resistenza all'alternaria, resistenza alla cercospora resiste al cavity spot, non ha problemi di salita a seme e questo cosa significa? Significa riduzione degli interventi agronomici in campo L'ultima caratteristica è la costanza di crescita durante tutto il ciclo quindi non è necessario spingere con le concimazioni come spesso si fa per aiutare una cultura che magari in alcune fasi del ciclo di produzione fatica un pochino sono proprio queste caratteristiche che rendono Allianz la carota del futuro in un certo senso e la rendono molto adatta anche alla coltivazione in biologico EASF We create chemistry EASF EASF